Ok ragazzi, benvenuti in questo primo Q&A. Adesso la qualità non è delle migliori, ma pian piano la risolviamo. Ho messo un post su Instagram, oggi stesso, mi avete fatto un sacco di domande, quindi mandiamo tre quarti d'ora o un'oretta da adesso, cerco di rispondere a più domande possibili andando in ordine, quindi i primi saranno avvantaggiati. Partiamo subito, senza tergiversare. Cercherò di farne una settimana, può essere un'iniziativa carina. Allora, Artusolle chiede come gestire le differenze di forza tra un arto e l'altro. Per esempio il bici di destra è più debole al sinistro. Allora, la prima cosa che fare è sicuramente andare da un posturologo, un fisioterapista, perché nella maggior parte dei casi queste problematiche nascono proprio dal fatto che ci sono delle asimmetrie tendenzialmente a livello posturale. Quindi una simmetria posturale si riflette in esecuzioni comunque non perfettamente lineari e simmetriche che nel lungo periodo creano il genere delle differenze di forza. Quindi questa è la prima cosa, capire qual è la causa esattamente, che può essere perché c'è il bacino settato in un certo modo, c'è una gamba più lunga di un centimetro dell'altro, di un mezzo centimetro dell'altra, piuttosto che tendi a contrarre il trapezio perché c'è avuto un infurto in una spalla, può derivare da qualsiasi cosa, veramente, ripercuotersi in qualsiasi parte del corpo. Prima cosa, seconda cosa, dal punto di vista dell'allenamento non gestirei granché, a meno che non ci sia una forte, evidente differenza ipertrofica, che però abbiamo bene o male tutti dalla destra a sinistra, quindi non me ne percorrerai troppo. Sicuramente inserisci degli esercizi unilaterali, mantenendo lo stesso peso, però se ti escono delle ripetizioni in meno, poco importa, l'importante è che l'intensità, l'effort, quindi il driver principale dell'ipertrofia, sia sempre lo stesso, quindi se arrivo a cedimento tecnico da una parte, arrivo anche dall'altra, anche se faccio meno ripetizioni, e questo ti garantirà comunque un bilanciamento di stimolo tra una parte e l'altra. La Manigoldo Marchi chiede, per chi si allena nel tardo pomeriggio, come impostare l'alimentazione? Per spiegarmi, ho a disposizione oltre che per introdurre i carboidrati pre-inter e post-workout, e non il post-workout, ok? Volendo seguire quanto avete scritto Inade, Allora, Inade che cosa ho scritto? o nella parte alimentare, suggerivo di inserire un buon quantitativo di carboidrati anche nel post-post-workout, quindi il pasto che viene dopo il post-workout. Quindi, per esempio, nel mio caso, noi ci alleniamo a mezzogiorno, alle tre e mezza, quattro abbiamo il post-workout, e alle sei, sei e mezza, abbiamo il post-post-workout, che sarebbe la nostra cena, perché ci siamo perfettamente uniformati al trend inglese. Quindi, in questo caso, che cosa ti suggerisco? Non è un grosso problema, magari cerca di concentrare un po' più di carbo nel pre, nell'intra, e se del caso fatti un post-workout liquido subito dopo la doccia, poi pian piano ti prepari il post-post-workout solido e te la gestisci così. Quindi, i carboidrati del post-post-workout, in realtà, li prendi e li assumi liquidi tra l'intra-workout, quindi magari aggiungi 20-30 grammi di ciclo d'estrine, e nel post-workout immediato, in cui puoi utilizzare o dei cereali, che sono molto veloci con le whey, oppure anche, in questo caso, una forma di carboidrati liquidi. Allora, Cicling Hubba chiede, come interrompere un periodo con diverse buffate vicine per diversi giorni a seguito di un periodo di finizione abbastanza estremo? Hai qualche semplice consiglio? Grazie, ciao. Allora, la prima cosa che vi dico è che, in periodi di cut, di definizione, se vi abbuffate, siete perfettamente normali, perché in questi contesti tutto quello che il corpo vi dice è ti prego, ti prego, ti prego, mangia. E il fatto che siate food focus, che cerchiate sempre di mangiare, che cerchiate sempre una fonte di cibo, eccetera, eccetera, vuol dire semplicemente che il vostro corpo funziona, e funziona bene, ok? Quindi da questo punto di vista va tutto bene. Assolutamente. Per cui, la prima cosa che vi dico, perché in molti casi vedo che le persone, il problema di base è che si abbuffano, e partono nei sensi di colpa, e parte che ti senti male, e parte che credi che c'è qualcosa che non va in te, e quindi si instaurano un circolo vizioso dal quale non riesci ad uscire. No, è perfettamente normale. Quindi, di certo, io sono sicuro che, Cicling Hubba, se tu ti stessi giocando l'Olimpia, o ti stessi giocando una competizione importante, non avresti fatto delle abbuffate. Quindi sicuramente la forza di volontà di base ce l'hai, per cui dipende molto dall'obiettivo e dal reward che è la fine del periodo di definizione, poi non sono il caso specifico. Però il mio consiglio è quello, semplicemente, torna un track, senza problemi. Nel senso, hai fatto un periodo di abbuffate, smetti di pensare a quello che hai fatto, smetti di pensare a quel che è stato, quel che è stato è stato, e si può ripercuotere o meno su quello che stai facendo adesso, oggi, in questo momento che stai vedendo questo video, e quello che farai domani, stasera, non so, dopo domani, eccetera. State a decidere se si ripercuoterà o meno. Mio consiglio? Non fare in modo che si ripercuota, o meglio, fai in modo che non si ripercuota. Quindi, semplicemente, smetti, interrompi tutto quello che stai facendo, stai pensando, e ritorna al tuo programma iniziale. Ti assicuro che nel giro di qualche giorno ritornerai perfettamente un track. Non fare compensazioni o forti compensazioni, perché poi crei un sistema in cui queste abbuffate sono in qualche modo concesse, perché puoi metterci una pietra sopra, puoi compensare. No, assolutamente no. Torna un track, vedi quanto è difficile da una parte, ma semplice dall'altra, ritornare a un'automostasi e ritornare nel percorso che stai facendo, al ritmo che stavi seguendo. In questo modo vedrai che la buffata, in qualche modo, non è un qualcosa che tu devi inserire, che puoi inserire e cercherai di stare lontano, però al tempo stesso inizierai a vivere tutto quanto meglio. Per cui, con la massima serenità possibile, torna a quello che stavi facendo. Allora, Nicolò Caramori chiede come migliorare la connessione mentre muscolo sul dorso? Tu come sei riuscito a fare il salto di qualità? Allora, sul dorso è abbastanza varia come questione. Il punto di partenza è sicuramente quello di comprendere l'anatomia. Il gran dorsale rispetto all'omero tende a portare l'omero in basso. E il fatto che l'omero sia inserito alla spalla crea questo momento rotatorio per cui alla fine crediamo di portare il braccio, il gomito indietro. In realtà lo stiamo semplicemente portando in basso. Quindi, il primo consiglio che ti posso dare è quello di cercare di proiettare tutto quanto il più possibile in basso. Quindi, ti metti di lato e cerchi di portare non tanto il gomito indietro quanto piuttosto in basso. La seconda cosa molto molto importante è capire e comprendere quello che è l'active rom del dorso. Per cui il dorso non dovete andare troppo indietro. Perché una volta che arrivate all'anatomia del tronco il dorso rispetto all'omero lo andrebbe a extra rotare e porre medialmente quindi avvicinare alla spina. Quindi nel momento in cui continuate ad andare indietro in realtà il gran dorsale si allunga e quello che entra in gioco è il deltoide posteriore. Per cui, fermatevi tendenzialmente alla linea del tronco. E l'altro consiglio è quello di inserire molti lavori unilaterali perché vi potete concentrare da una parte specifica potete inclinare leggermente il busto quindi avere un accorciamento maggiore del gran dorsale e sentirlo meglio. Questi sono dei consigli di base. Poi, logicamente, i problemi e difetti di ciascuno a livello di connessione cioè il perché non riesco a connettermi bene con un determinato distretto, eccetera, eccetera dipendono prettamente dalla struttura e dalla biomeccanica individuale. Quindi sicuramente va analizzata la situazione in dettaglio. Allora, Antonio Perazzo chiede come allenarsi durante una fase di reverse diet? Dipende da come sei arrivato alla fine. Se sei arrivato molto molto stanco allora il reverse aumenta gradualmente il volume. Se invece stai ancora abbastanza energico quindi non sei arrivato a livelli di BF troppo bassi e stai facendo una reverse per sostanzialmente tornare in bulk alla spingi molto anche in questo caso col volume e l'intensità. Volume inteso, più che altro giocherei sulle effective reps quindi non metterei troppo junk volume se non sei in grado di esprimere una buona intensità di lavoro. Però tendenzialmente il consiglio che posso dare è quello di inizi ad aumentare i carboidrati fai in modo che siano utilizzati efficacemente in allenamento. Quindi non aver paura di lavorare sul rep range un filino più alte quindi anche arrivare alle 20 30 ripetizioni anche sui compound non aver paura di inserire delle expose comunque delle forme di cluster set perché verosimilmente quando sei in reverse inizia a arrivare veramente una valanga di energia e il motore inizia a girare tantissimo. Però ripeto, questo dipende da come sei arrivato alla fine perché se sei arrivato alla fine che sei stanco i livelli di BF sono molto molto bassi ora ti dico parti con un volume molto basso aspetta di guadagnare qualche punto BF e di ripristinare il glicogeno muscolare e da là inizia a salire gradualmente. Però diciamo che il concetto dell'allenamento dovrebbe andare di pari passo con l'alimentazione perché hai sempre più energie e quindi puoi sfruttarle e devi sfruttarle al meglio in allenamento per essere performante. Damiano chiede come capire se si è davvero a cedimento. Devi avere realmente uno spotter che ti spinga oltre il limite. Questo è l'unico modo per capirlo se non hai l'esperienza. Col tempo arriverai a capirlo. Il modo migliore è stai concentrato e questa è una cosa che anche in questo acquisisci molta molta esperienza e prova a fare la ripetizione a 50-50 arriverai a un punto della tua serie in cui c'è la 50-50 ossia la ripetizione che quando arrivi è 50% la chiudo 50% non la chiudo non ne sono sicuro. Prova a farla. In ogni caso arriverai a cedimento perché se riesci a chiuderla sei arrivato a cedimento tecnico se non riesci a chiuderla sei arrivato a cedimento. Quindi il consiglio è quello. Poi un approccio sicuramente molto molto sensato è quello del chasing the log. Quindi sostanzialmente avere un log e cercare di batterti ogni volta. Quindi che cos'è che voglio fare? Per esempio ho la mia pressa ho fatto ecco ad esempio oggi sulla pressa ho fatto 11 plates per side quindi 440 kg ho sparato 9 ripetizioni. Ok perfetto. Io so che la prossima volta visto che il mio rep range è 8-10 su questo primo loading set la prossima volta metterò sempre 440 kg e proverò a far uscire più di 9 ripetizioni quindi proverò a farne 10. Questo è il modo migliore di capire che sono arrivato a cedimento perché vado là mi concentro che devo arrivare a questi 10 e io bene o male ormai capisco però agli inizi a un certo punto arrivi a non riuscire a farlo quindi se tu arrivi che devi chiudere quelle 10 ripetizioni e non riesci a chiuderle allora molto probabilmente sei effettivamente arrivato a cedimento perché avevi quell'obiettivo specifico e con un approccio cesi in the log gradualmente il livello di il margine che tu puoi avere tra il cedimento reale e quello mentale che ti inganna il cervello che è frutto della sottoportazione d'orrore eccetera va pian piano a ridursi quindi a un certo punto inevitabilmente arrivi a cedere perché vai là sei carico devi battere i log c'hai le migliori intenzioni ma non ci riesci sei arrivato a cedimento quindi sicuramente in questi casi l'approccio cesi in the log ben periodizzato lo consiglio fino a che non siate avanzati avanzati nel senso avanzati con carichi molto importanti a quel punto bisogna iniziare un po' a mollarlo perché sennò tende a cuocerti il sistema nervoso centrale va periodizzato anche prima sicuramente però per il resto è veramente è quello che ti permette l'approccio che ti permette nel bodybuilding di arrivare al 90% del tuo potenziale questo senza ombra di dubbio allora Ube Fitness da quanto ti alleni dopo quanto ti sei ritorno soddisfatto i primi risultati non sono ancora soddisfatto dei miei risultati quindi mi alleno da 10 anni in qualcosa del genere e io ho iniziato come judoka facevo judo quindi andavo in palestra in maniera funzionale a judo ho dovuto interrompere per una protezione per cui non essendo io sempre stato basso perché ho iniziato a judo che ero piccolo piccolo diciamo che il mio combattimento era molto fatto da proiezioni quindi andavo sotto e mi ricaricavo sulle spalle e li buttavo mi ero qualificato per le nazionali e mi è uscito questo infortuna della protusione mi sono molto molto scoraggiato ho buttato la ho accanato tutto quanto ho continuato con la palestra all'inizio un po' così poi pian piano mi è piaciuto sempre di più però tendenzialmente sì credo che sia una decina d'anni in cui lo faccio abbastanza seriamente ma anche di più prima avevo già un condizionamento di base Luca Casoria chiede come capire quando fare un passo indietro nei carichi per riuscire a risalire e migliorarsi ancora di più quando la forma perde e in questo caso ti incentivo sempre a farti video io in realtà mi faccio video non tanto per Instagram perché sono un pessimo influencer quanto piuttosto perché devo vedere esattamente la forma quindi soprattutto sui top set voglio vedere quanto scendo su una pressa perché poi anche là le percezioni quando si spinge tanto col carico è sempre meglio avere un occhio esterno perché pian piano la percezione non ti dice veramente tutto soprattutto quando il sistema nervoso centrale è fritto quindi quando vedi che la forma inizia a perdere quando non ti ritieni soddisfatto la sicuramente fa un passo indietro un altro passo indietro sicuramente andrebbe fatto quando inizia a essere cotto da un punto di vista di sistema nervoso centrale quello è dovuto principalmente ai carichi pesanti soprattutto se sono aumentati nel breve periodo quindi in questo caso il mio consiglio è ok fai questo piccolo passetto indietro e poi spara tutto quel che hai e riparti Marco Giannilli si può crescere nel senso di aumentare massa a parità di BF anche in un periodo di cruise o automaticamente da escludere per motivi recettoriali allora innanzitutto devi distinguere quello che è la TRT dal cruise nel senso che con la TRT si va a utilizzare un livello di sostanzialmente testosterone esogeno che simula quello che dovrebbe essere endogeno che è qualcosa che dovrebbero fare gli atleti che stanno ai primi cicli di utilizzo di AS che non vogliono smettere e quindi sostanzialmente è inutile fare una PCT far ripartire l'asse e poi buttarlo giù di nuovo perché poi diventa una cosa che paradossalmente fa anche peggio quindi sostanzialmente ok ho fatto questa scelta decido di continuare sul lungo periodo la cosa più salutare tra virgolette è in serie dei periodi di TRT e i periodi di TRT sono funzionali al ripristino sostanzialmente dei valori di salute per quel che si può ripristinare quindi nella maniera più ottimale possibile differente dal TRT è il Cruise in cui non si utilizza più un livello fisiologico di produzione cioè non si simula più la produzione endogena di testosterone ma si inizia a avere un livello sovrafisiologico ora il Cruise è da fare esclusivamente per atleti che hanno masse molto importanti tali per cui con una TRT non riuscirebbero a mantenere tali masse ma anche in questo caso lo scopo del Cruise è quello di ripristinare per quanto più possibile i valori di salute quindi per definizione mettiamola così il Cruise dovrebbe essere un livello di AS di molecole che ti permette di mantenere delle masse sovrafisiologiche quindi è un livello che è più alto di quello fisiologico di testosterone si utilizzano eventualmente altre molecole però tendenzialmente lo scopo è quello di mantenere quindi per definizione ti dico di no poi è logico se vai a vedere i Cruise che fanno molti atleti che di fatto sono cicli per i propri allora in questo caso si continua a crescere ma là viene meno la capacità di rigenerazione del corpo perché considera che già a livelli sovrafisiologici di testosterone il fegato ha difficoltà a recuperare ok pur non essendo il testosterone per te particolarmente epatotossico se non veramente a livelli minimi però il fegato ha difficoltà a rigenerarsi quindi logicamente più riusciamo a mantenere bassi questi livelli di nuovo con lo scopo di mantenere quello che è quelle che sono le masse che abbiamo conquistato perché abbiamo altre gare altre competizioni meglio è per cui ti dico per definizione no non dovresti continuare a crescere il tuo scopo dovrebbe essere quello di tenere quanto più basso possibile per mantenere e recuperare quel che puoi recuperare allora Fabio Rinaldi mai avuto infortuni gravi? scusate no per fortuna no tuoi pensieri e pronostici sul mister olimpia 2020 una cosa molto interessante sarà vedere Hunter Labrada questo per certo perché è un atleta che a me piace molto in assoluto e so che e vedo che da un punto di vista di attenzione sta avendo tanta attenzione lo stanno notando in molti questa è sicuramente una cosa e vedo che questo mistero olimpia rispetto ad altri c'è una forte carica mediatica in generale di base ossia che cosa vuol dire questo che i vari sponsor la redcon piuttosto che la gasp eccetera stanno spingendo molto i loro atleti attenzione anche per gli atleti di tour quindi Ian piuttosto che James adesso al momento in cui sto registrando Ian si è qualificato per l'olimpia al New York Pro Hunter al Tampa James deve fare l'Alicante poi successivamente eventualmente il Two Bros qua in Inghilterra il 7 novembre e credo che James possa fare veramente veramente tanto anche se non ha una linea straordinaria come ad esempio Hunter sta portando con Patrick una condizione quindi un livello di graniticità di rotondità muscolare di pienezza di esplosività veramente impressionante e devo dire che non l'ho mai visto così in assoluto quindi è un altro atleta che mi piacerebbe vedere assolutamente all'Olimpia e stiamo a vedere perché ancora ci sono tutte le qualifiche da fare Ian non piace per esempio come atleta però la cosa che mi piace veramente vedere è che ci saranno tanti atleti nuovi questo sicuramente positivo validi soprattutto quindi sarà una line up molto più in qualche modo frizzante c'è il ritorno di Philit ci dovrebbe essere che però sta undercover per ora quindi non si sa c'è Flex Lewis che gareggia negli Open e Flex anche ha una linea straordinaria e di fatti se io devo dire dal mio punto di vista a gusto personale per me nei prossimi anni se Flex continua a gareggiare nei prossimi anni la bella sfida sarà tra Flex e Hunter Labrada considerando che Hunter porta un peso totalmente diverso però come diciamo impatto come atleta come linea come fisicità ci stanno ci stanno un bel paragone da fare tra i due una bella lotta sono entrambi incredibili ci sono entrambi una linea incredibile quindi sarà veramente bello bello da vedere nei classic non so quanto Bamstead è bellissimo però non lo vedo ancora maturo come atleta nel senso che non è ancora non ha quella serietà del portare avanti una una preparazione e portare avanti il trono di Mr. Olympia Classic e sarà interessante vedere Terrence Ruffini che cosa riuscirà a combinare insomma anche da là potrebbero esserci dei movimenti però sicuramente la la cosa più interessante in assoluto sarà vedere gli open quest'anno gli open dovrebbe essere uno show veramente veramente bello ma stiamo a vedere perché ancora devono finire le qualifiche allora healthy fitness style 360 chiede ciao Ludo allenamento gambe donna migliori esercizi secondo te a quelli che funzionano che sente bene sostanzialmente poi dipende dal caso specifico però anche in questo caso non siate mai ancorati o sposati con un esercizio ci sono donne che rispondono straordinariamente bene a squat donne che rispondono molto male di squat donne con cui puntare su lip thrust donne con cui puntare invece sugli stacchi per il coinvolgimento dei glutei quindi non ti so dare una risposta precisa quello che ti posso dire è che le donne sopportano un livello di effort molto più alto negli uomini motivo per il quale nei nostri programmi tendenzialmente andiamo a caricare molto ma molto di più il diciamo il compartimento donne nel senso che nei programmi femminili spariamo veramente tantissimo a livello di effort di volume di intensità eccetera allora Luca Casoria il numero migliore di set settimanali per gruppi muscolari tutti ad alta intensità il numero più alto da cui riesci a recuperare ok quindi non mi va di dare cifre questa è una cosa che purtroppo ci sono cadute in passato mio errore l'ho fatto però non è non è esattamente il massimo quello di dare delle cifre indicare qualche qualche range perché è veramente molto molto soggettivo dipende anche quante tecniche sta utilizzando che carico sta utilizzando perché ok ad alta intensità però alta intensità con alto carico alta intensità con basso carico perché ad esempio un allenamento di gambe se ho un'alta intensità con alti carichi allora tendenzialmente io gestisco 9-10 set allenanti se ho in alta intensità con bassi carichi posso arrivare anche a 15-16-17 serie allenanti ok quindi anche questa è una bella differenza non mi va sinceramente di dare dei numeri soprattutto settimanali per gruppi muscolari diciamo che questo può essere un indice che ogni allenamento se carichi tanto stai sulle 8-9 serie se carichi un filo di meno quindi c'è più lavori di isolamento eccetera puoi arrivare pure sulle 12-13 serie per i grandi distretti muscolari stessa cosa per quelli piccoli orientativamente però per ogni allenamento e là il tuo scopo è quello di recuperare quanto prima possibile e riallenare e avere uno stimolo più o meno simile a meno che non si riesce dai richiami ci alludo quali integratori chiede PM della 10 quali integratori e quali strategie consigli in periodi in cui la voglia di allenarsi è sotto lo zero allora sì non mi viene da pensare agli integratori come prima cosa sicuramente vorrei capire perché la voglia di allenarti è sotto lo zero cioè cerchiamo di capire il motivo che sta alla base e cerca di risolverlo comunque in generale quando c'è tanto stress in generale nella vita tanto peso eccetera il consiglio che ti posso dare è quello di utilizzare degli adattogeni sicuramente è un'ottima ottima soluzione quindi ben venga all'ashwaganda ben venga al neurosarge che sono in assoluto la combinazione dal mio punto di vista migliore in assoluto attualmente in commercio quindi una buona ashwaganda in neurosarge eccetera quindi sostanzialmente il Dimezin è anche un ottimo integratore quindi il Same e ti consiglio di intervenire su questo fronte e sicuramente puoi far bene poi per il resto di nuovo il mio consiglio è di capire perché la vai di allenarsi sotto zero perché credo che sia molto più profonda come cosa Amedeo Piccione chiede calorie aumentate da 10 giorni e peso che scende conviene alzarle? allora in questi casi valuta però sicuramente sì nel senso che tendenzialmente se lo scopo è quello di bulk vuol dire che il motore sta reagendo bene probabilmente il fatto che l'aumentato e il peso scende è che c'è un riscontro dal punto di vista di net di performance di dispendio tali per cui vai a consumare di più ok quindi hai attivato il motore hai attivato un buon processo quindi stai in un buon canale per cui sì tendenzialmente il mio consiglio è quello di aumentarle non avere il rush di aumentarle costantemente ma dai tempo a 1-2 settimane per stabilizzarti e capire esattamente se hai per esempio se il peso scende e hai episodi di ipoglicemia allora alzali sicuramente subito allora Francesco 25 chiede grande Ludo secondo te esiste un limite genetico riguardo l'ipertrofia muscolare? assolutamente sì come si fa a capire di averlo raggiunto? non non lo capisci perché realmente poi il discorso non è che è una crescita periodica tu cresci 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 e cresci tendenzialmente sempre meno quindi l'andamento della tua crescita è logaritmico per cui crescerai sempre un filo di più non raggiungerai mai il tuo limite perché a un certo punto diventa guadagnare qualche dettaglio eccetera eccetera per cui quello che ti posso dire è enjoy the process quindi goditi il processo goditi l'allenamento continua a spingere però tendenzialmente se non diciamo che se ti alleni bene tutto puoi iniziare a capire di aver raggiunto qualcosa o di stare a veramente tirare il fondo del barile verso i 40 anni ok? quindi non ti porre allenandoti da da tempo da tanto tanto tempo allora Nico Nerbo chiede meglio carico interno o esterno se stiamo puntando sull'aumento di intensità nel senso che spesso accade che aumentare i carichi non faccia percepire il lavoro sul muscolo target come a carichi un pochino più bassi sempre interno cioè la forma è la base io sempre nel discorso della gerarchia dell'ipertrofia dico alla base c'è la forma l'esecuzione poi l'effort l'intensità e alla fine il carico quindi alla base devi avere sempre una forma impeccabile succede molto spesso che aumenti il carico perdi un po' di forma e questo può essere normale e quello che devi fare successivamente alla volta dopo invece di cercare di fare più ripetizioni aumentare il carico semplicemente cerca di fare con lo stesso carico le stesse ripetizioni ma con una forma impeccabile quindi vai a ritrovare quella sinergia poi è logico che quando i carichi iniziano a diventare veramente veramente alti l'effort sistemico è così alto che senti meno quella sensazione di forte coinvolgimento specifico del muscolo ma semplicemente perché anche tutti gli stabilizzatori tutti gli stretti agonisti intervengono e devono esprimere e devono esprimere quella tensione muscolare tale per cui questo si riapre ok tutti gli stretti sinergici devono esprimere quella tensione muscolare tale per cui inevitabilmente li vai a sentire quindi l'effort sarà sempre comunque abbastanza sistemico in questo caso però ecco distinguo l'effort sistemico dalla forma che è inficiata sono due cose tendenzialmente differenti palestra dot follow chiede in un periodo di surplus calorico conviene lavorare sulla densità di allenamento cercando comunque di mantenere dei carichi allenanti se sei molto molto avanzato molto molto avanzato vuol dire che su per darti dei numeri cioè arrivi veramente stai al limite dei carichi che riesci a sollevare secondo la tua struttura quindi certo se sei un atleta che solleva 180-200 kg di panca sui 300 kg di stacco sui 220-250 di squat allora ti dico sì ha senso il discorso che fai ha senso quando sei cotto da un punto di vista di sistema nervoso centrale è un lavoro che io ad esempio se vedete il mio log è un qualcosa che più o meno sto iniziando ad inserire dopo questo periodo di off-season in cui ho lavorato molto molto sui carichi perché? perché i carichi sono aumentati tanto in questo periodo quindi non sto sicuramente al limite non ho carichi sovrumani però continuare a insistere sempre su quelli mi porta cioè a un certo punto andavo in overreaching ogni 4 settimane cosa che non andava bene quindi adesso sto cercando di implementare lavori un po' più sulla densità quantomeno nei back-off quindi sto inserendo dei lavori pesanti seguiti da uno o due set tendenzialmente un po' più densi però per il resto ti consiglio di lavorare prima con i carichi come detto ragazzi i carichi vi danno il 90% del vostro potenziale massimo di crescita il lavoro sui carichi nel range ipertrofico nel senso molto ampio quindi un 8 20-30 RM allora Matteo Bulleri come può una persona allenarsi puntando sull'alta intensità percepita in un non-gym base quindi rack bilanciare i manubri capisco che per allenarsi in questo modo serve ad essere stabili e quindi le macchine sono eccellenti però mi chiedevo se almeno in parte uno può replicare certi setup senza di esse ah tendenzialmente in realtà si perché su uno squat metti le barre in basso con il rack metti pin in basso su una panca fai la stessa cosa quindi tendenzialmente non è discorso tanto di essere stabili quanto piuttosto secondo me il discorso di poter chadere in sicurezza ad esempio più che la stabilità la cosa che devi vedere è il resistance profile quindi ad esempio sullo squat utilizza le catene utilizza gli elastici sulla panca panca inclinata questo ti permetterà di avere una tensione sul distretto uniforme su tutti i tratti di ROM quindi non hai quella tendenza ad esempio nello squat che quando scendi in basso sprofondi e questo ti garantisce la capacità di esprimere un'intensità molto molto più elevata in più ci metti la possibilità di chiedere in sicurezza e hai fatto questi sono sicuramente consigli migliori quindi cerca di rendere il resistance profile piatto per esempio ancora nelle dips utilizza la catena oppure gli elastici in basso io avevo postato dei video su instagram di quando mi allenavo in un gym durante il lockdown in cui facevo tutti questi lavori e riesce a spremerti un consiglio per la un gym compra magari una smith machine assolutamente ti dà possibilità di fare tanti tanti lavori e che possono permetterti di dare un po' di pepe in più Tommaso Carigi chiede cosa ne pensi dello stile di coaching o di divulgazione di Greg Doucette sinceramente ragazzi non mi piace parlare di altri di altre persone di altre influencer quindi a meno che non venga io per primo messo in ballo o ci devono essere delle differenze o domande specifiche parlare così generalmente di altre persone non è qualcosa che mi appartiene allora Edo Gozzi chiede norma calorica è spremersi in sala pesi se non si è né carne né pesce è una soluzione efficace quindi ok skinny fat sostanzialmente grossi indefiniti sì assolutamente sì è la cosa tendenzialmente migliore perché in questo modo io ti direi più che norma calorica magari un lieve surplus monitorando che i parametri di salute siano stabili quindi un'ottima sensibilità insulinica e questo già ti darà un effetto ricomp veramente veramente importante quindi cerca di puntare sicuramente su questo e trarrai grandi grandi benefici non serve ragazzi date sempre il focus all'allenamento e credete fortemente che l'allenamento sia il driver di quel che fate perché questo il peso aumenta se alzate le calorie ma la massa aumenta perché vi allenate in un certo modo non perché avete alzato le calorie poi il fatto che vi allenate in un certo modo vi porterà a dover inserire un surplus molto alto alla fine delle fasi di bulk io con i miei ragazzi con me eccetera arriviamo veramente a stare 2-3 mila calorie sopra lo start point però queste sono calorie che sono necessarie per l'allenamento che sono richieste dall'allenamento da quello che fanno i ragazzi a quello che faccio io quindi in realtà il surplus di queste non sono 2-3 mila calorie perché quello è il surplus rispetto allo start point al start point metabolico ma il reale surplus è sempre abbastanza lieve quindi anche con questo mole calorica non vanno a prendere tanto però credete fortemente che l'allenamento sia il driver principale dell'ipertrofia quindi puntateci veramente tanto allora Matteo Michele chiede come fare una programmazione annuale basata sul metodo Hatfield abbastanza semplice il metodo Hatfield cioè almeno io lo interpreterei così hai sostanzialmente 3 fasce di lavoro un lavoro pesante un lavoro medio un lavoro metabolico finale ok perfetto impostati una split sulla base di queste 3 fasce impostati una scheda e nel corso dell'anno cerca di fare in modo che il tuo 6RM del primo lavoro pesante diventi molto più pesante quindi il tuo 6RM sia un carico molto più alto rispetto a quello iniziale il tuo 10-12RM sia un carico molto più alto rispetto a quello iniziale il tuo 20RM sia più alto rispetto a quello iniziale è molto molto semplice approccio Chasing the Log io non farei veramente nient'altro Matteo Michele 9 come fare una programmazione sì è sempre lui Gaetano Phoenix ciao Ludo hai mai dato importanza e provato a modulare la respirazione ha provato la modulazione della respirazione ne do molta molta importanza durante l'esecuzione della serie nel senso che tot respiri in eccentrica tot respiri in concentrica in modo da avere certo una compressione intratoracica per poter spingere eccetera eccetera esterno no ma è un campo che sicuramente voglio approfondire nel caso in cui lo approfondisca logicamente porterò qualche contenuto su qualche canale non è delle piattaforme insomma allora Emanuele Tir ciao complimenti per chi ha un lavoro su turni non regolari e quindi mi alleno sempre in orari differenti come meglio impostare l'alimentazione dai molta importanza alla per i workout nutrition sicuramente questa è la cosa migliore quindi cerca di concentrare il grosso dei carboidrati bene o male tra pre intra post e post post workout che ovviamente varieranno nel corso delle giornate di giorno in giorno quindi cerca di concentrarti su quello e per il resto bisogna vedere all'atto pratico datti un tot logicamente di macros giornalieri da raggiungere per il resto c'hai il tuo pre intra post 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 workout che non cambiano mai stanno sempre a ridosso a quella fascia quando ti alleni e il resto dei pasti li vai a schiaffare quando ti capita negli altri momenti sostanzialmente Benito Ferrara 1993 chiede qualche dritta per restare meno piatto durante il movimento per avere un po' più di tono muscolare in più meno a colpo libero allora in questi casi fai un periodo di definizione molto più lungo che ti dà modo appena vedi che tendi a essere flat di inserire delle ricariche quindi avrai una definizione molto più lenta sicuramente però non perderai tono non esagerare col volume non esagerare col cardio che tende a avere questo effetto di flat se sei enhanced ma non credo non esagerare con tiroidei clan e via discorrendo l'altro consiglio è tieni alta l'acqua e tieni alto il sale che sicuramente danno questo effetto di mantenimento di un certo volume un certo tono muscolare e logicamente un altro discorso è cerca di tenere anche una quota glucidica abbastanza alta non scendere troppo da quel punto di vista Tommaso Carigi ho acquistato Kratos e settimana prossima non inizierò la domanda è come capire i distretti i quali bisogna puntare non riesco a capire i miei reali punti carenti se è così io tendenzialmente il consiglio che do è perché non hai i reali punti carenti quindi dai priorità alle gambe perché se inizi ad avere delle gambe importanti o comunque dai priorità alle gambe tutto il resto è facile cioè una volta che un builder costruisce le gambe il resto è tutto in discesa quindi io il consiglio che do in questi casi è cercare di dare un po' più di prevalenza alle gambe però Kratos bene o male ha tre rotazioni quindi è anche abbastanza equilibrato e puoi sicuramente far uscire una split molto equilibrata quindi puoi anche non dare troppo peso a un distretto piuttosto che un altro Alessio Crobeddu chiede buongiorno Ludovico come fai a basare l'alimentazione solo sugli alimenti e non sui macros lo possono fare solo gli avanzati oppure anche i principianti intermedi buona giornata grazie buona giornata allora in realtà lo dovrebbero far tutti dal mio punto di vista ho registrato però un video youtube che uscirà tra poco in cui spiegano il dettaglio come fare il discorso ragazzi è molto semplice voi che cos'è che mangiate cibo o numeri mangiate cibo quindi nel momento in cui voglio ad esempio questa settimana ho fatto un app calorico ok ho aggiunto 80 grammi di riso bene o male in realtà ho aggiunto 50 grammi di riso e 30 grammi di avena ho aggiunto cibo ho ragionato sul cibo più o meno non mi importa realmente che macros ci sono poi logico ogni tot vado a dare un controllo magari come sono messi i miei macros perché è logico se aumento tanta avena inevitabilmente c'è un aumento di grassi un aumento di proteine eccetera però tendenzialmente da una parte lavorate sempre con alimenti che sono abbastanza indirizzati su un macronutriente quindi logico se devo aumentare il carbo non è che mi metto a aumentare i fagioli piuttosto che i piselli o comunque i legumi andrò ad aumentare il riso le patate dolci eventualmente se la prendo la quinoa i cereali le gallette il mio intra workout magari un pochetto di questo app calorico lo vado a fare sull'avena poi aumentato di 2 grammi di grassi dovete considerare sempre che da una parte tutto quello che calcolate e stimate sono approssimazioni fatte su approssimazioni fatte su approssimazioni cioè se io prendo una mela al supermercato adesso sono andato a comprare le mela al supermercato perché ce l'ho nei giorni off e noi abbiamo qua un albero di mele ok 120 grammi 120 grammi due melette ok macros probabilmente completamente differenti perché queste sono cresciute in quest'albero quello non si sa da dove sono cresciute e anche dallo stesso albero alcune hanno preso più sole meno sole e tutto stessa cosa del pollo che cosa ha mangiato cosa non ha mangiato quanto l'hanno rimpinzato che marca è anche dello stesso allevamento è troppo vario quindi quel delta di macros che avete se calcolate e ragionate soltanto sul cibo ce l'avreste comunque in ogni caso anche se tracciate macronitamente alla perfezione soltanto che ragionando sul cibo avete un approccio all'alimentazione molto più easy il discorso che voglio farvi passare ragazzi è che cercate di rendere più semplici e easy intuitive e facili le cose che possono esserlo non buttate troppo lavoro troppo stress laddove realmente non serve già l'allenamento è stressante già la vita da bodybuilder è stressante già tante cose sono stressanti se in più dovete stare a calcolare macros alla precisione eccetera due palle cioè non posso dire devo aumentare 50 grammi di carbo vedo esattamente dove fare aspetta se aumento l'avena diminuisco i grassi di qua diminuisco le proteine di là eccetera aumentare 50 grammi di carbo metto 60 grammi di riso in più oppure aumento direttamente 50 grammi lordi e vedo come va casomai aumento un po' di più cioè se iniziate a ragionare sul cibo diventa tutto molto più semplice molto intuitivo molto più facile io attualmente non ho idea dei macros che ho e vi assicuro e questa è la cosa importante che nel campo del bodybuilding agonistico sono pochi gli atleti che sanno i loro macros o che tengono traccia i loro macros se non per scriverli su instagram o per riportare o per fare cose generalmente la gente ragiona sul cibo cioè basta si ragiona sul cibo e fine è la cosa più semplice in assoluto e ti toglie molto molto stress e soprattutto ti sposta al focus sull'allenamento nel senso che inizi a vivere l'alimentazione più spensierato inizi a capire che stai gestendo cibo e non numeri e che sostanzialmente ti fa l'atleta cioè va in sala spingi nutriti va in sala spingi nutriti ok quindi il focus si sposta su quanto cibo stai mangiando su quello che stai effettivamente mangiando non sui numeri non mi frega e anche questo ti distacca un po' perché la gente è paranoica oddio quello là sta facendo il bulk sta a 700 grammi di carbo io sto soltanto a 400 eccetera sti cazzi sinceramente ognuno c'è il proprio metabolismo ognuno c'è il proprio contesto ognuno sta in una fase specifica ragionate sempre soltanto sugli alimenti veramente sembra stupida come cosa però ne trarrete tanti tanti vantaggi mentali per questo abbiamo fatto il foodlog perché veramente noi è un qualcosa del qualcosa super super utile francesco rubini non rispondo alla tua domanda perché non mi va di umiliare le persone e parlare male nicolò tra balzini come faresti approcciare la palestra dell'allenamento con i pesi ad un atleta di uno sport da combattimento per quanto riguarda l'alimentazione come terresti i livelli di carbo in relazione anche a cigirazio grande ludo continuo così spacchi troppo grazie nicolò allora sport da combattimento tendenzialmente dipende quanto siamo vicini alle competizioni perché in quel caso l'alimentazione va tutta rapportata io ho diversi pugili diversi atleti di BJJ diversi atleti ho avuto di MMA e tutto il resto sicuramente l'approccio all'allenamento deve essere funzionale ad un certo transfer quindi voglio sicuramente creare una progressione di forza però non voglio impattare quello che è il loro lavoro effettivamente in sala il loro lavoro tecnico dipende sempre anche dal livello a cui stanno il mio consiglio è quello di cercare di progredire su grandi schemi motori perché è un qualcosa che permette il miglioramento della coordinazione permette un buon transfer perché si lavora per catene cinetiche sui gesti che vengono espressi quindi migliorate anche la forza eventualmente cercate di non estremizzare troppi lavori che tendenzialmente portano a DOMS perché portano dei recuperi muscolari troppo lenti quindi in questo caso logicamente non è un qualcosa che vogliamo perché va a inficiare il lavoro tecnico che si fa in sala quindi sicuramente lavori abbastanza easy abbastanza semplici eventualmente anche in buffer mi duele dirlo però sempre dare una certa priorità ai compound quindi dei lavori in full body possono essere molto molto sensati poi anche là capite che tipo di sport da combattimento quanto è utilizzato il lower body piuttosto che l'upper body insomma ci sono tante cose da andare a capire e mi raccomando fate i giusti tapering quando ci sono i periodi di gara Giacomo Nanni chiedi c'è l'upper di definire come gestire rap range e volume in una classica fase di off intensificazione aumento il volume e desinficazione non so cosa sia questo ah ok si come gestire rap range e volume semplicemente io quello che ti dico in questo tipo di approccio ossia in uno schema un mesociclo parti dal costruire l'intensità cioè parti da un volume standard base semplice che ti riesce a gestire bene e su questo volume aumenta gradualmente l'intensità una volta che l'intensità vada ad aumentare gradualmente ed è arrivata a livelli anche piuttosto elevati quindi stai spingendo veramente veramente tanto allora hai costruito la tua base il tuo lavoro è qualitativo bene complimenti ora adesso aumenta il volume e portalo al massimo volume che riesci a recuperare tenendo questo lavoro qualitativo quindi sostanzialmente io voglio arrivare al punto che le mie poche serie allenanti sono tutte portate al cedimento tecnico con qualche intensifier ok adesso che queste serie sono super qualitative che hanno impatto ipertrofico concreto cerco di aumentarle gradualmente finché non vedo che il recupero viene inficiato a questo punto faccio un passetto indietro avrò raggiunto il mio massimo volume recuperabile e da qua mi fermo è molto molto semplice ora quando arrivo all'overreaching perché ok ho raggiunto il mio massimo volume recuperabile continuerò a migliorare continuerò a battere il log superare i carichi eccetera non c'è tutto arrivo all'overreaching allora in questo caso faccio un periodo di scarico che può essere uno scarico attivo passivo posso fare una diminuire l'intensità può fare un devolume insomma ci sono diverse alternative in questo caso non ho parlato anche su rayonation danni renda ritornare ad esprimere la massima intensità dopo un infortunio con ernia inguinale passo dopo passo con molta molta calma torni in sala e anche in questo caso l'approccio scesi in the log sicuramente è la soluzione migliore perché ti porta ad avere un obiettivo a batterti costantemente ad avere un parametro di riferimento e quindi nel giro di poco riesci a raggiungere la massima intensità frankdb chiede ciao ludo una domanda stupida nei tuoi video spieghi che bisogna dare il maggior stimolo al muscolo spiegandomi l'energia possibile ma concretamente cosa intendi per stimolo e cosa per energia energia è il lavoro L quindi massa per spostamento quindi sostanzialmente quante ripetizioni col carico vai a fare che devono essere quanto più le tue ripetizioni col carico sono stimolanti rispetto a quelle non stimolanti che sono quelle per esempio prima del cedimento prima delle effective reps quelle di warm up eccetera allora stai dando tanto stimolo con meno dispersione di energia e questa è una cosa lo stimolo concretamente ci sono differenti tipi di stimolo generalmente se vuoi vederla così è quanto lavori al o sopra il tuo limite questo generalmente rappresenta tutto il ventaglio di stimolo che tu puoi concretamente dare messa in maniera molto semplice poi ogni rep range rappresenta uno stimolo differente ecco vedela così i vari stimoli rappresentano quanto tu arrivi al cedimento e superi il cedimento in ogni determinato resp range quindi se hai arrivato al cedimento col tuo 8RM quello è uno stimolo se hai arrivato al cedimento sul tuo 12RM quello è uno stimolo se hai arrivato al cedimento sul tuo 20RM quello è un altro stimolo sono tre stimoli differenti questi tu li hai dati con quanto meno lavoro l'hai dato tanto più efficace sarà il tuo recupero banalmente però si aprono tanti capitoli adesso se vedi i miei log io sto lavorando molto con dei ramping che di base vuol dire sprecare tanta energia per dare lo stimolo però in realtà la logica è quella di andare a avere un macro schema di affatecamento progressivo per non caricare troppo arrivare al cedimento con un carico un po' più basso e anche ricercare un certo tornellaggio totale maggiore insomma ci sono tante sfumature in questo caso però la regola generale è tendenzialmente questa quando lavori cerca di dare stimoli come un cerchino tocco il fugo tac quindi stimolo con meno lavoro possibile lo russo faccio quest'ultima domanda in fase di massa tengo fisse le pro nobili a 2 per chilo ma con la quantità di carbo che arrivo con creato servo tranquillamente a superare 3 grammi per chilo nonostante tutta tanta zucca raper rosse banane e mais per evitare di avere fonti indirette di pro cosa conviene fare tagliare i nobili o aggiungere ancora carbo cicolestrine o altro accuso fratulenza e non so se per via delle verdure eccessive o per le pro sicuramente per entrambe in questo caso riduci tranquillamente quantità di proteine non è un problema le proteine devi sempre considerarle in toto quindi non considerare soltanto i 2 grammi per chilo di nobili ma considerare le proteine in toto riduci le verdure anche perché per i carbo zucca raper rosse banane sicuramente mais riso stai su fonti semplici patate dolci patate sicuramente è meglio rispetto a qualsiasi fonte di verdura o qualsiasi parte di patate ortaggio che tendenzialmente ha un buon quantito di proteico soprattutto tende a mangiarne tanto riduce le fibre e in questo caso le verdure possono essere eccessive non so quante ne stai mangiando e integrazione neoflora al mattino una fonte di probiotici che è un'integrazione che io consiglio default a tutti quanti per il semplice fatto che noi nella nostra alimentazione italiana culturalmente o meglio europea non abbiamo fonti di probiotici dirette anche lo yogurt che trovate al supermercato per via delle normative alimentari è fatto in ambiente sterile quindi non ha realmente batteri lo yogurt quello che ha batteri è quello che trovate in in condizioni da proprio igieniche devastanti da da chiusura del locale chiusura del posto della produzione e tutto questo però in realtà sono quelli che fanno meglio quindi realmente io consiglio sempre l'integrazione di probiotici e vedi un attimo come va la situazione nel caso riduci tranquillamente le pro ma basi sempre sul quantità che raggiungi totale se vedi che è del caso ok ragazzi questo è tutto non è venuto il massimo forse farò uscire soltanto la traccia audio però adesso la miglioriamo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Q&A di questa nuova iniziativa insomma scrivetemelo nei commenti in generale sarò ben lieto di rispondere poi a qualsiasi altra domanda con questo ragazzi vi saluto e vi rimando al prossimo post sicuramente che andremo a fare al prossimo Q&A e alla prossima settimana ciao a tutti e buona serata